Sapete che in queste ore c'era una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno le scuole. Per il Governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato anche il parere del Comitato Tecnico Scientifico e abbiamo deciso prudenzialmente, visto che la situazione epidemiologica cambia velocemente, di sospendere le attività didattiche al di fuori della zona rossa fino al 15 di marzo, quindi da domani, a partire da domani. So che è una decisione d'impatto, come Ministro dell'Istruzione io ovviamente spero che i miei alunni tornino al più presto a scuola e mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale, seppur a distanza, venga fornito a tutti i nostri studenti.